questo è un video e tu hai detto facciamo i cenzelli no però ci racconti un po' che giorno è oggi? è il 14 agosto 1940 no no non è il 14 agosto che giorno è oggi? è il martedì 13 aprile 1972 che giorno è oggi ci dica signore Enrico il 29 luglio 1802 è il più grande dell'Europa allora che giorno è oggi? non lo so che cazzo non lo so l'abbiamo già chiesto a due persone è sabato no? è sabato hai avuto la tua opzione che giorno è oggi? oggi è il 27 il 27 luglio del 2019 sono le ore che bravo ma non potete utilizzare il telefono signora come la chiamano lei? signora? dalle un nome signora Betty ma perché così piccino? come stai? Enrico quindi signora Betty che giorno è oggi? oggi è il 27 di luglio del 2019 ci stiamo facendo un'affogata perché non mi ricordo come si dice aspetta un falò un falò un falò qui è in un posto vicino a cacirini cacirini? terrasini vicini a cacirini in un posto vicino a cacirini in un posto desertico per quanto desertico c'hanno delle persone lì guardatele sono lì in quadrone abbiamo visto un tramonto spettacolare un tramonto spettacolare la signora Betty quindi è contenta del suo tramonto? basta di lavoro non appartengono al plotone quelle persone appartengono al plotone è entrata appena in modalità guerra signor Giurba si mi dica pure ma ci dica lei ha seguito la composizione del fuoco insieme a Mastro Totto c'è lì c'è il fuoco è è caldo è molto caldo ha 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 più e più volte sugli esperimenti bellici è approvato è bello caldo sulla faccia è bello caldo sulla faccia come sempre come sempre ok ok allora salutiamo la signora Betty ciao signori eh mh signori unknown unknown signori mancusi signori mancusi ok 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 signori mancusi